Pochi fronzoli, molta sostanza. Continua a fare cose egregie nel girone H di serie D, il Gravina, che batte 2-1 in trasferta il Gragnano nell'anticipo della non aggiornata e conserva sia l'imbattibilità in campionato che un posto nei quartieri nobili della classifica. Prova di grande solidità e cinismo, quella esibita dai Murgiani nel domicilio di una squadra, reduce da due vittorie consecutive e tre risultati utili di fila. Si tratta del quinto successo stagionale per la formazione di Antonio De Leonardis, il terzo con la valigia da viaggio. I padroni di casa scattano meglio dai blocchi, ma sono i pugliesi a colpire già al quarto d'ora. Bidà con il mancino calcia al volo dal limite dell'aria e non lascia scampo al portiere dei Campani. Gravina in vantaggio, Gravina che prova ad addormentare la partita. Il Gragnano in ogni caso non porge l'altra guancia e prova subito a reagire pervenendo al pareggio prima della mezz'ora. Franco dalla media distanza disegna con il piede sinistro una traiettoria che non lascia scampo all'oliva. Uno a uno, parità ristabilita, continuano i colpi di scena nel primo tempo. Liccardi ferma Leonetti, lanciato a rete, si becca il cartellino rosso diretto. Gravina in dieci uomini, Gravina che prova subito a sfruttare la superiorità numerica e trova il gol del nuovo sorpasso prima dell'intervallo direttamente su punizione con una meravigliosa traiettoria dai 35 metri di Balzano. Rete bellissima quella del 2 a 1 per i Murgiani. Meno scoppiettante ma ugualmente emozionante è anche la seconda frazione che si apre con l'autorete sfiorata da Formisano e il gol annullato per fuorigioco allo scatenato Picci. I campani dunque restano in partita e con l'uomo in meno vanno vicini addirittura al pari con una percussione centrale di Gassima. L'oliva è attento e respinge. Ultimo quarto di partita. Leonetti su assist di Picci. Non trova il gol d'autore. In acrobazia lo stesso Picci manca l'impatto con il pallone da posizione favorevole. Gli uomini di De Leonardis poi gestiscono con personalità il segmento finale di partita e tornano a casa con tre punti pesantissimi. Mercoledì prossimo, per il turno infrasettimanale della decima giornata, Gravina di scena in casa nel derby con il Taranto.